Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video di Galaxy Life Allora, oggi ho i piani ben chiari, dobbiamo fare prima la nostra nuova base Cioè pulire tutto quello che c'è attorno e rifarla bella e carina E come seconda cosa facciamo la seconda colonia, perché abbiamo bisogno della seconda colonia Ho bisogno dei sordi, dei farma, degli eserciti, ok? Di tutte queste cose Quindi, prima di tutto, volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti i miei link Tutti i miei social, RollerCoin, Gemly, Instagram, Discord, Twitch, tutto quello che volete Steam per aggiungermi agli amici, aiutarci assieme su RollerCoin e creare una nostra alleanza O entrare assieme in un'alleanza di qualcun altro, vedremo Bene, detto tutto questo, io vi lascio subito ad un timelapse Dove ricostruiamo tutta la nostra base, la rifacciamo carina, bella difensiva E ci rivediamo dopo per fare un paio di attacchi e colonizzare il nostro secondo pianeta Ok? Bene, 3, 2, 1, a dopo Ok? Bene, 3, 1, a dopo Ok? Bene, 3, 1, a dopo Grazie a tutti. 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 Ok, 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 signori. Mezz'ora per rifare sta base, mezz'ora, vabbè. Come potete vedere però l'abbiamo finita, nuova base rifatta. Madonna che parto. Madonna che parto. Rimettiamo le truppe visibili dalle porte temporali e direi di andare a fare un attacco. Ok, facciamo un attacco, prendiamo un po' d'oro e costruiamo la nostra seconda colonia. Quindi, signori, come al solito ci ritroviamo quando trovo una base appetibile. Ok, signori, questo ha tutte le difese qua e qua ha tutte le risorse. Quindi, beh, che dire, questa, oh mio dio, è vuoto, va bene, schieriamo tutto e via. Cioè, signori, cosa devo fare? Cioè, signori, cosa devo fare? Meraviglioso. Una cosa così non la vedevo da un sac. Guarda quante diavolo di risorse ha, porca puttana. Ci prendiamo anche un po' di XP dalla porta temporale, velocità per quattro ora. L'unica cosa da fare è pregare di ritirargli giù tutto, o almeno gran parte. Che cazzo questo? Questo stava sistemando la base e sua mamma gli ha detto Spegni il computer, Jonathan. No, come sia, Blueberry. Spegni il computer, Blueberry, o ti stacco la corrente. Qualcosa del genere, di sicuro. Ehm, va bene. Fioi, gente, signori, signori, les gentlemen, capo du cazzo. Ehm, imparate, imparate. Queste, queste sono le basi migliori da fare, ok? Eppure una base stellare così a gratis con tanto di cella di energia. Guarda l'esperienza, guarda. 10.000 XP e stiamo distruggendo ancora. Siamo a metà. Io qua, se serve comprare altri due minuti, li compro. Già me ne avremo un cazzo, verrà che roba. Una base così, la trovi una ogni dieci ore. Non è vero. I dieci anni, ecco. Siamo più precisi. Raghi roba, raghi roba, il devasto. Il devasto. Mannaggia il mortaio. Sì, acquista due minuti. Non mi interessa. Li acquistiamo, non ce ne frega un cazzo. Forza, 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 forza. Ma mi è bazooka. I bazooka! Che roba! Che danno! In realtà è un cazzo di danno, ma va bene. Cioè, 400 colpo, 400 danno a colpo. Non è niente, non è. Ah, voglio acquistare altri 14... No, no, non voglio acquistare altri 14 minuti. Guarda come il mortaio è... C'è altri due minuti. Guarda il mortaio è come mi ha distrutto. Va bene, va bene, va bene. Non ci interessa, non ci interessa. Non ci interessa. Non l'abbiamo distrutto. Non importa, non importa. Guarda che puntino, mamma mia! Ok, ok, scusate. Penso che l'audio sia andato totalmente a puttane. Ma signori, ma signori, che roba. Cioè, potrei rifare la base. Ok, 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 abbiamo... Bravi, 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 bravi. Dobbiamo distruggere 24 cannele spessive. Violite o radacchite? Ok, quindi o verde o viola. Signori, andiamo a farci la colonia. O verde o viola. Facciamo... Facciamo il fanny. Facciamo il fanny. 169, 169... O verde o viola, ricordiamoci. Allora, non... Penso che molta gente volesse fare il fanny. Quanto costa fare una colonia qua giù? Ok, ancora un po' troppo. Perfetto, perfetto. Torniamo... Torniamo a casa. Torniamo a casa e esploriamo un po' i dintorni, ecco. Perché abbiamo 5 milioni da poter spendere. 400... Facciamo 420 e 369. C'è la... C'è? Possiamo? Quando carica? Cosa abbiamo? Serve verde? Questa sarebbe. Perché? Ma cosa ho messo? Volevo 420. Non ci arriva? No, ci arriva. Guarda, ce n'è pure una... Una viola. Quanto costa? Ah, per poco! Per poco, per poco. 269? Sempre per i meme questi numeri, ovviamente. Allula! Come è messo? Allula? Allula è vicino. Allula è vicino. Facciamo su Allula. Facciamo su Allula. Allora, visitiamo... Visitiamo il pianeta. Ok, è quello centrale. Quello centrale. Ho poche storie. Poche storie. Via! Colonizziamo Allula! Su questo mondo ci sono così tante forme di vita. Sembra quasi che il pianeta stesso sia un essere vivente. Probabilmente è un essere vivente. Ton, 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 ton! Ed eccoci! Nostra nuova colonia con... Ah, giusto! Giusto, mamma mia, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato di dirvi. Eh, ho rimosso... Ho rimosso la navicella spaziale incidentata al nostro pianeta base. Lo so. Lo so. Lo so. Orribile. Come mi sono permesso, me ne vergogno. Me ne vergogno? Ma non c'era cazzo spaziale. Rompe troppe coglioni nel pianeta principale. Che è in mezzo alle palle. Questa è la mia sedia che scricchio là. Cioè, nel pianeta principale è qua. Ma non sta là, ma... Cioè, è qui in mezzo nel pianeta principale. Nel colonia almeno sta più in là. Vabbè. Ecco qua la nostra seconda colonia, finalmente. Con tanto di... Di base stellare cicciotta. Bellissima. E solo un muratore. Guarda che fiero lui. Guarda che fiero. Lui dice, eh, io lavoro. Io sono l'unico qua che lavora qui, eh. Tenettino fa un cazzo. Sono solo io che sto qua. Camminare. E costruisco nulla. L'aria. Mona. Ok. Ok. Seconda colonia. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, pum, operaio. Un altro. Focchi d'artificio. Festa. Ed ecco il nostro secondo operario. Fiero. Cassetta degli attrezzi. Martello alla mano. E via. E via. E cosa si fa sulla nuova colonia? Beh. Case compatte perché ci servono i soldi. Casissime compatte perché ci servono un fracco di soldi. Costruisci. Costruisci. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Che lavoro. Che lavoro. Che lavoro. Che lavoro. Perfetto. Fatte le case. Li mettiamo a fare un silos. La banchetta. E signori. 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 Tante. Tante emozioni. Questa. Tante emozioni. Questa puntata. Una nuova base. Molto figa. Se posso permettermi. Ho fatto un bel lavoro. Anche due milioni di. Di monete rimanenti. Volevo prendere questo. Ok. Vedere se possiamo potenziare un po' di mura. A livello successivo. Eh. Mannaggia. 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 Queste mura che costano. Ok. Questo abbiamo potenziato. Esatto. Boom. Altre mura a livello 4. Zà zà zà. Ok. Mmm. Chica della base. Ovviamente il mortaio qua dentro. E ora dobbiamo riempire i bunker. Perché questa base dipende dai bunker. Vabbè. Ma questo è davvero tutto per questo video. Facciamo un bello zoom out. Mettiamo uno sfondo animato. Per vedere bene bene bene. La nostra base. Guarda che carina. Guarda. Guarda che robettina che te che ho fatto. Mamma mia. Signori. Con questo bellissimo sottofondo. E fantastico monumento alla costruzione. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse stato. Vi ricordo di lasciare un mi piace. Un commento. Facendomi pensare cosa ne state pensando in questa serie. Quanto vi piace Galaxy Life. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei link. E tutti i miei social. Rolecoin. Gem. Instagram. Twitch. Discord. Steam. Per diventare amici. Fare l'alleanza. Tutte le solite cose. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Metto anche a fare un fantastico regalo perfetto per la prossima volta. Un abbraccio. Una splendida resta della vostra giornata. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.